Le bellezze architettoniche, artistiche e naturali della Puglia raccontate sotto forma di matematica. È accaduto durante un incontro nel Castello di Trani che ha visto la presenza della professoressa Sandra Lucente, ricercatrice di analisi matematica dell'Università di Bari e autrice del libro Itinerari Matematici in Puglia. Che cosa hanno in comune la Puglia, i colori, le bellezze architettoniche, culturali, naturali con il linguaggio della matematica? La matematica vuole essere raccontata e anche la Puglia vuole essere raccontata. Questa è una primissima astratta coincidenza. Poi ce ne sono tante di concrete. Siamo qua, siamo al Castello di Trani, siamo dentro pietre sovrapposte in dimensione 2, siamo in una meraviglia che cresce in dimensione 3, abbiamo le finestre da cui si affacciava la Principessa Elena che sono circolari e concentriche come gli alberi, abbiamo il mare con le onde. Se fosse agitato il maestrale sarebbero più frattali e possiamo andare avanti così tanto per raccontare una bellezza che è invisibile, un po' come quella della matematica, e che non va invisibilizzata. Questo racconterò oggi. Lei è autrice di un libro che si intitola proprio Itinerari Matematici in Puglia. Allora, qual è questo viaggio particolare che viene percorso lungo tutta la Puglia, dall'estremo nord all'estremo sud? Il protagonista di questo libro, Paul, scrive un diario di viaggio come se avesse un disturbo, vede matematica ovunque e quindi vede bellezza ovunque, dal rosone di Troia così particolare alla cattedrale di Galatina, che forse non è cattedrale, è basilica, oppure a Castel del Monte, però anche i monumenti molto meno noti. Possiamo pensare alle urbanistiche, a Caia, possiamo pensare a cose anche della tradizione, una tamorra, un centrino. In tutto questo vediamo simmetria e mancanza di simmetria, geometria e ancora geometria, perché anche la mancanza di simmetria è sempre geometria. Possiamo dire quindi che a chi non ama la matematica, questo è un modo invece per scoprire la bellezza della matematica? Questo e tanti altri, perché è impossibile non amarla, secondo me, la matematica. Come nasce un incontro come quello di oggi con la professoressa Sandra Lucente all'interno del Castello di Trani? Nasce a seguito di una serie di iniziative che vengono calendarizzate dal Ministero dei Beni Museali e dal Polo Museale della Puglia a cui questo sito fa riferimento. Quindi un'apertura verso la gente su temi che possono riguardare a 360 gradi il mondo sia culturale, ma anche quello della valorizzazione. La matematica è una forma di lettura per poter capire il costruito, soprattutto il costruito della Puglia, che è un costruito fatto di pietre e di regole, regole specifiche in cui relazionare tra loro i materiali, i materiali e l'ambiente, i materiali e il paesaggio e i materiali all'intorno.